Vai papi! Vado! Un giro forte, vediamo che lettera esce... Charlie! Ci sono riuscito al sesto giro! E scelgo la lettera... Ciao a tutti e benvenuti nel canale di Sofì! Papì! E oggi, che facciamo di bello oggi Sofì? Oggi faremo episodio della Ruota dei Saluti 10! Il decimo episodio! A grande richiesta siamo tornati con la Ruota dei Saluti! Ma c'è una novità, vero Sofì? Sì, una novità! Ovvero... Ta-da! La rubrica! La rubrica dei saluti! L'abbiamo già vista in una storia su YouTube, se ci seguite già da tanto tempo! Guardate che c'è scritto Rubrica dei Saluti! In pratica amici, ogni volta che volete essere salutati, vi scriviamo sulla rubrica, quindi basta fogliettini e vi terremo sempre con noi! Sì, però posso dire una cosa bella? Tutti quelli salutati negli altri episodi, possono scriverci per tenerli qua con noi! Esatto! Anche se avete partecipato nell'episodio precedenti, scriveteci e vi aggiungiamo nella rubrica dei saluti, ok Sofì? Ma vogliamo ricordare cosa bisogna fare per partecipare? Sì! Dovete scrivere nei commenti! No! Città! Città! Così vi riconoscete quando vi salutiamo! E inoltre vi ricordiamo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e attivare la campanella delle notifiche! E mettete anche un like, giusto Sofì? Sì! Ma adesso iniziamo con il primo dei cinque giri! Vai Sofìa, tocca a te! Primo giro di Sofìa, salutiamo la lettera... R! La lettera R è la prima lettera che salutiamo dalla rubrica! Allora mettiamo da parte la ruota per il momento, apriamo la rubrica, guarda quanto è bello Sofì, lettera PQR! Iniziamo! Rossella, 10 anni, la poggiora Arino! Poggio Marino! Poi io saluto Rosa, 8 anni, da Mugnano di Napoli! Rebecca, 7 anni, da Monopoli! La mia amica! È la tua amica di classe! Ciao Rebecca! Ciao! Ti salutiamo, conosciamo anche i genitori! Ciao anche i genitori di Rebecca! E non perdiamo tempo, andiamo con il secondo giro della ruota! Guarda come siamo più veloci così, vero Sofì? Papi, un giro forte, vediamo se esce il jolly! Vediamo che se esce... Sì! Allora vai Sofì, al di là poi con la ruota! Io prendo la rubrica! Perfetto, andiamo alla C! Hai visto com'è più facile così salutare i nostri amici Sofì? Sì, e poi è molto più facile perché con la rubrica si mette il ditino e si trova il punto! Guarda Sofì, sono tanti con la lettera C! Già! Allora iniziamo! Puoi fare tu il primo? Sì, Celesto, 11 anni da Modena! Chantal Rota, 10 anni da Milano! Chantal Paciola, 9 anni da Barletta! Poi Chiara, 10 anni e mezzo da Angri! Caterina, 11 anni da Firenze! Chiara Cavallaro! Clarissa, 7 anni da Nuara! Costantino Bisanti, di 8 anni e mezzo da Villa Abate! Carlotta, 8 anni da Vetrana! E l'ultimo Cristian, 10 anni da Napoli! Allora, ciao amici con la lettera C! Sofia, tocca a te il terzo giro con la ruota! Un giro forte! Vediamo che lettera esce... L! Salutiamo gli amici con la lettera L! Io abriamo la rubrica Papi! Ma come te l'abbracci la rubrica? Ti piace, velo Sofì? Perché mi abbraccio... Come... Non lo so che emozioni proprio! Perché abbraccio me stessa! Abbracci tutto il nostro team! Allora dai, giriamo veloce con la lettera... Allora, lettera L! Quanti sono Sofì? Solo due! Due amici con la lettera L! Allora tu leggi il primo? Ludovica, 10 anni da Barla Sina! E Luana, 9 anni da Ladispoli! Ciao amici con la lettera L! Vi abbiamo salutato! Andiamo avanti veloce con il quarto giro! Siamo più veloci e salutiamo più amici così! Vero Sofì? Sì! Dai! Quarto giro! Salutiamo la lettera... Z! Z! Vediamo se ci sono degli amici con la Z! Controlliamo sulla rubrica! Vai Sofì! Vediamo se ci sono degli amici con la Z! Vediamo, vediamo! Credo però, sai? Forse sì, forse no! Sì, ci sono! È un po' complicato, lo leggo io Sofì? Sì! Allora salutiamo Zlatina! Krasimirova, 11 anni dalla Calabria! Ciao Zlatina! Ti abbiamo salutato! E allora andiamo con il quinto giro di Sofì! Vai con la ruota Sofì! Vediamo! Sì, se poi farà un sesto giro papi! Forse lo facciamo perché siamo stati veloci! Non sta uscendo più un jolly! È da tanto che non escono i jolly! Vediamo! La lettera... P! Ecco qua la rubrica! Vai Sofì! Sì! Foglia, sfoglia, sfoglia! Pietro Rometto, 8 anni! E io saluto Pamela, 8 anni da Foligno! Grazie amici con la lettera P! Vi abbiamo salutato! Che dici Sofì? Facciamo un sesto giro della ruota? Sì, dai! Allora dai! Come decimo episodio, giro bonus! Lo faccio io! Speriamo che esce un jolly! Vai papi! Vado! Un giro forte! Vediamo che lettera esce! Charlie! Ci sono riuscito al sesto giro! E scelgo la lettera E! Allora, giro della rubrica! Lettera E! E io sai com'è facile adesso! Sì, basta solamente nel listino! Abbiamo gli ultimi tre nomi da salutare con la lettera E, Sofì! Vai col primo! Elisa Loisi, di 8 anni, da Torino! Emily Maida, di 9 anni! Elena, 8 anni, da Siracusa! Ed è tutto! Abbiamo salutato anche gli amici con la lettera E! Speriamo di avervi accontentato amici con la rubrica dei saluti! Ma tanto avremo tanti altri episodi da fare, giusto? Sì! Ma questo è il momento dei saluti! E allora vai Sofia! E quindi iscrivetevi al canale! Attivate la campanellina! E mettete like! Iscrivetevi sui nostri social! Ovvero Instagram e TikTok! TikTok, ci sono anche qui! Ci vediamo in un prossimo video! E... Ci saluta anche lei! Ciao!